Il principe Alberto di Monaco sarà affiancato dai suoi figli al vertice sul cambiamento climatico COP26 di Glasgow la prossima settimana, il capo della famiglia reale di Monaco sarà tra gli altri reali e leader mondiali all'evento COP26 a Glasgow a partire dal 1 novembre. Saranno presenti anche membri della famiglia reale britannica, tra cui il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, parlando alla rivista People, il principe Alberto ha rivelato che i suoi gemelli di sei anni, il principe Jacques e la principessa Gabriella, lo accompagneranno in Scozia. I bambini si uniranno al 63enne mentre partecipa agli impegni alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il viaggio della famiglia nel Regno Unito precede il ritorno della principessa Charlene a Monaco, previsto per la fine di novembre. La principessa Charlene di Monaco ha avuto una malattia a lungo termine che l'ha tenuta separata dalla sua famiglia, la principessa di 43 anni, nata in Zimbabwe, ha sofferto di una grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola mentre si trovava in Sudafrica. Punto punto. Suo marito aveva ammesso che la sua visita originale nella regione doveva essere un soggiorno di una settimana, massimo 10 giorni, ma la malattia le ha impedito di tornare a casa. In riferimento al fatto che i loro due figli lo accompagneranno in Scozia, il principe Alberto ha detto alla rivista People, sono in vacanza, da scuola. Non volevo lasciarli soli a Monaco. In questo modo, saranno con me prima che, la principessa, Charlene torni. Il Reale ha aggiunto che i gemelli Jacques e Gabriella, che compiranno 7 anni il 10 dicembre, avranno la loro agenda durante il viaggio di 4 giorni del padre alla conferenza, ha notato che la visita dei bambini in Scozia comprenderà visite a musei e piccoli luoghi di interesse. Il mese scorso, Jacques e Gabriella hanno accompagnato Albert anche per una visita non ufficiale in Irlanda.